Ricalcolo Ricalcola è una parola che sento molto spesso. Ieri sono arrivata qua da Rimini, ero in macchina e per fortuna mi è andata bene, non c'erano troppe interruzioni, un po' di traffico, ma neanche troppo e quindi sono stata molto fortunata. Molto spesso faccio Parma-Milano perché io sono di Parma e studio Milano Ingegneria Biomedica e vado in macchina perché è molto più comodo, i mezzi sono un po' complicati per me, ma è una storia che ci sarà altre occasioni per raccontare. Quindi molte volte mi trovo in autostrada, ma l'autostrada di solito ci metto più o meno un'ora e mezza. Sulla 1 spesso ci sono incidenti, ci sono lavori ed è proprio in quel momento che mi capita di accendere il navigatore, di accendere il navigatore e controllare quanto tempo ci vuole per arrivare al mio obiettivo, per arrivare a Milano. Quando guardo, di solito se sei in coda è perché lo accendi e il tempo va avanti, aumenta sempre di più e i chilometri rimangono sempre fermi e qui la freddezza del navigatore cerca di darti un'alternativa, cerca di trovare un'altra strada. Mentre noi siamo umani, non abbiamo la freddezza che può avere la tecnologia e quindi molte volte ci arrabbiamo, cerchiamo qualcosa a cui dare la colpa, ma in questo modo perdiamo tempo, soprattutto perdiamo energie, quando le potremmo impiegare nel trovare una soluzione. E ricalcola significa trovare una strada altrove. Altrove è dove io ho dovuto cercare la mia vita. Il 4 gennaio del 2010, l'anno in cui ci sarebbero stati mondiali di trampolino elastico, io stavo andando in palestra a fare il mio allenamento dopo le vacanze di Natale. E salti semplici, perché ovviamente avevamo appena iniziato, fino a che arrivano le sette di sera, l'ultimo salto del primo allenamento, io faccio un salto indietro, un salto avanti con un mezzo giro e mi ritrovo sul telo in appoggio sulle braccia a non sentire più le gambe. Da quel momento c'è stato un turbinio di cose, perché subito è arrivata l'ambulanza, mi hanno immobilizzato, sono stati bravissimi, sono arrivata in ospedale e subito esami, la risonanza, l'ecografia, i raggi, fino a che sono arrivata nella stanza della neurochirurgia, è entrata l'anestesista e mi ha detto Giulia, non sappiamo se ti operiamo adesso o domani mattina. Io speravo lo facessero subito e per fortuna così è stato. Nella mia quotidianità, ricalcolo in continuazione, molte volte troviamo un gradino, molte volte troviamo un sassolino. E quando mi trovo davanti a queste cose, il cercare una soluzione è bellissimo, vi dà quella soddisfazione quando poi riesci a trovarla che vi auguro di provare. E altrove è dove io ho trovato il mio futuro, altrove perché altrove dà una dimensione di normalità. Ma che cos'è la normalità per noi? La normalità può essere pensare, vedere una persona che ha due gambe, due braccia, che corre, che salta, che ci vede, che ci sente. E invece ognuno di noi è diverso. Ma è quell'essere diverso che rende tutti di noi unici e belli per quello che siamo. Perché se tutti sapessimo fare le stesse cose e se tutti noi non sapessimo fare le stesse cose, non si andrebbe mai avanti. Ma rimarremmo tutti piatti, tutto uguale. E adesso la sedia è diventata la mia compagna di vita, che mi permette di essere qua, mi permette di raccontarvi questa cosa e mi permette di fare qualsiasi cosa. Perché oggi la mia vita è bella, la mia vita è divertente, è un po' frenetica, però mi diverto, mi piace, l'ho scelta, l'ho cercata, l'ho ricalcolata e la sto vivendo. Altrove per me è stata la soluzione. È stata la soluzione perché quando percorri una strada che non ti porta più a niente, ma c'è un'interruzione, allora devi essere in grado di cambiare strada. Di cambiare strada, ma avere sempre in mente i tuoi obiettivi. E così per me è stato. Avevo i miei obiettivi e sono riuscita a raggiungerli, ma non da sola. Perché da soli io credo che non si arrivi da nessuna parte. La mia famiglia, i miei fratelli, i miei genitori, i miei amici mi sono stati sempre, sempre vicino. Non mi hanno mai detto di no, non puoi fare le cose, ma troviamo il modo di farle. E questo troviamo il modo di farle mi ha permesso di raggiungere tantissimi obiettivi. Loro non mi hanno mai nascosto la verità. Pensate che quando io mi sono svegliata dall'anestesia, ancora non me lo ricordavo bene, quindi me l'hanno raccontata questa cosa, ho chiesto alla mamma, mamma posso tornare a saltare? Perché la mia priorità era saltare, neanche camminare, perché è quello che mi piaceva fare. E mi ha detto no Giulia, non salti e non cammini. Mi sono girata dall'altra parte. E adesso il ricalcolare è all'ordine del giorno. Vi faccio un esempio. Io mi sono fatta male che avevo 16 anni, era il 2010, e 16 anni volevo prendere la patente del 125, volevo la moto, ma ovviamente non potevo più prendere la patente per la moto. E cosa ho fatto? Ho deciso di prenderla per il quad. Il quad, quattro ruote, puoi farlo. Vai in motorizzazione a Parma, ma nessuno sa come fare, perché è la prima volta che succede che una persona paraplegica chiede di fare la patente del 125. E quindi inizia mia mamma a cercare di capire come fare questa cosa, finché un ingegnere della motorizzazione si prende la responsabilità di dire la patente alla Giulia la faccio io. E così è stato. Ricalcola è stato anche quando io pensavo che il trampolino sarebbe stato il mio sport e in realtà adesso il nuoto è diventato la mia vita. Ho ricalcolato. Ho ricalcolato perché ho scelto di nuotare. Perché in acqua non hai confini, in acqua non hai barriere. In acqua è la prima volta dove io ho capito veramente cos'era il mio nuovo corpo, il peso delle mie gambe, cosa volesse dire non camminare, cosa volesse dire non sentire le gambe. Perché in acqua non sei appoggiato a niente, né a un letto, né a una sedia, sei solo tu, il tuo corpo e l'acqua. E in acqua è dove quest'anno, dopo 13 anni, da quando stavo preparando il mondiale di trampolino, ho vinto il mondiale di nuoto. Altro... Altrove sì, ma voglio dire, sono sempre io. Sono una persona. Sono sempre io è il titolo che ho voluto dare al mio libro per incuriosire, per andare altrove rispetto a quello che noi già conosciamo. Voi adesso mi vedete qui seduta, ma chissà quante domande avete, chissà quante domande avete, ma magari avete paura a farle, paura di farmi del mare, paura che la domanda sia sciocca. E invece no, la curiosità è la nostra forza. E altrove sì, ma non sempre. perché io credo che la felicità sia dentro di noi. Non sono le cose. Delle volte possono essere le medaglie, sì, a farci felici, a farmi felice, ma la medaglia è un oggetto. Quello che ci sta dietro è quello che veramente fa la felicità. Perché la medaglia, se io la posso condividere, allora sì che ha un valore questa medaglia. E in conclusione, quello che io vi voglio dire è che sicuramente gli imprevisti, le cadute, quello che noi non ci aspetteremmo, capitano. Capitano tutti i giorni, all'ordine del giorno, anche se noi non ce li andiamo a cercare. E quindi bisogna cercare la strada altrove. Magari sarà sicuramente un cammino diverso da quello che noi avevamo in mente, da quello che noi avevamo programmato di seguire. Ma questo percorso che noi cerchiamo altrove per arrivare al nostro obiettivo, perché noi dobbiamo arrivare al nostro obiettivo e noi vogliamo arrivare al nostro obiettivo, è questo percorso che abbiamo cercato altrove, che abbiamo voluto percorrere, che ci ha portato al nostro obiettivo. Ma ricordandoci sempre di essere noi stessi, sia qui, sia altrove, ovunque lo sia. Applausi Grazie. Applausi Grazie. Applausi Grazie. Applausi Grazie. 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 Grazie.